C'è qualche fumatore, volete fumare qualche sigaretta? Gli serve la cenere, quindi... Fumate, fumate, qualcuno deve fumare perché ci serve la cenere, non ci sono fumatori qua dentro, non ti preoccupare, non c'è problema, non c'è problema, la cenere, vuole la cenere, allora si può fumare qua fuori? Sì, qua fuori, subito qua fuori. Vai, su, però, eeeh, non ti dobbiamo. Sì, qua fuori.